Sulla base del tempo disponibile si valuterà se procedere, prima della replica del ministro, allo svolgimento di ulteriori interventi. Invito pertanto i gruppi che non l'avessero già fatto a far pervenire le richieste di iscrizione a parlare. Vedo il ditino dell'onorevole Zaratti che è venuto in diriggio chiaro questa mattina e quindi ha già chiesto l'intervento. Voglio ringraziare il ministro Calderoli per la sua disponibilità, gli cedo la parola. Prego, ministro Alberto Calderoli, siamo lieti di averla qui, nostro ospite, di concedere la parola. Prego. Grazie, presidente Pagano. Signor Presidente, onorevoli deputate e deputati, rivolgo innanzitutto un saluto cordiale a tutti voi e un sentito ringraziamento per l'invito all'odierna audizione introduttiva che, sono sicuro, costituirà l'avvio di una fruttuosa collaborazione. Non si tratta solo di un passaggio doveroso in occasione dell'avvio dell'attività di un nuovo governo della Repubblica in base all'ormai consolidata prassi istituzionale. Mi auguro invece che possa sorgere a prima e preziosa occasione di confronto per l'elaborazione congiunta di riflessioni e la formulazione di suggerimenti e proposte. Intendo, infatti, continuare a mettere in pratica, tanto nei rapporti con le autonomie territoriali quanto con il Parlamento, il principio costituzionale di leale collaborazione. L'incarico senza portafoglio che mi è stato affidato si colloca nell'intersezione fra queste esigenze di leale collaborazione ed è per questo che si connota come uno snodo particolarmente delicato. Il regionalismo differenziato Il dibattito in tema di regionalismo si è sin da subito concentrato su una questione che si lega fortemente tanto agli aspetti del pluralismo istituzionale e territoriale italiano quanto ai connessi compiti di soddisfacimento e tutela dei diritti dei cittadini. Alludo all'autonomia differenziata o regionalismo asimmetrico, che dir si voglia, che riguarda le regioni a statuto ordinario. Le forme e condizioni particolari di autonomia delle regioni ordinarie sono da oltre 21 anni parte del nostro patrimonio costituzionale, in base all'articolo 116 terzo comma della Costituzione. Il rilievo del tema è emerso con evidenza già nelle dichiarazioni programmatiche rese in Parlamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri Lo scorso 25 ottobre, allorché affermò che il governo intende, cito testualmente, dare seguito al processo virtuoso di autonomia differenziata già avviato da diverse regioni italiane secondo il dettato costituzionale e in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà in un quadro di coesione nazionale. Le parole a cui sono affidati concetti chiavi sono estremamente significative. Il processo virtuoso deve garantire il coinvolgimento delle autonomie territoriali, delle altre amministrazioni statali, del Parlamento. Al tempo stesso il percorso virtuoso coinvolge in primis le regioni interessate all'autonomia indifferenziata, in modo da riuscire a liberare energie e processi di efficienza in vista di più alti gradi di sviluppo economico, sociale, civile e culturale, ben superiori a quelli ad oggi già raggiunti dei vari territori. Energia e energie che fino ad ora sono rimaste spesso limitate a causa di molteplici fattori, lacune, inerti e in generale inefficienze burocratiche stratificatesi nel tempo. È innegabile che abbia inciso negativamente anche un riflesso culturale, espressione di una malintesa cultura centralista e dell'uniformità che troppo spesso è stato assunto a criticamente quale portato ineludibile della storia istituzionale, politica e amministrativa dello Stato italiano. E' sotto gli occhi di tutti come esso abbia portato a una spera equazione e divari territoriali insostenibili, che ci sono già attualmente purtroppo. Eppure, non per caso, già il Presidente Meloni citò Il dovere uso ossequio al dettato costituzionale, poiché, come evidente, è la stessa Costituzione a contenere una pluralità di indicazioni, possibilità e limiti che occorre saper mettere in moto in modo coerente e organico. In particolare, il 25 ottobre, il Presidente del Consiglio fece riferimento ai principi di sussidiarietà e solidarietà, in un quadro di coesione nazionale. Occorre infatti promuovere un'ottimale e dinamica distribuzione delle funzioni pubbliche tra i diversi livelli di governo, che si faccia carico anche delle giuste ragioni di quell'autonomia territoriale garantita già tra i principi fondamentali della Costituzione. All'articolo 5, che è garanzia di libertà, nel senso a cui alludevo poc'anzi, democrazia, grazie a una maggior prossimità del potere pubblico ai suoi destinatari e a migliori condizioni di trasparenza e responsabilità, efficacia dell'azione di governo con la stella polare dell'interesse pubblico, efficienza richiesta da sempre più pressanti esigenze di tenuta dei conti pubblici e ottimale utilizzo delle risorse. In merito alla coesione, le unità politiche territoriali che compongono la Repubblica, sebbene molto diverse fra loro, secondo la gran parte degli indicatori statistici rilevanti, lungo una linea di frattura che non si esauriscono nella dicotomia nord-sud, sono e sempre più saranno fortemente interdipendenti. Pertanto, quando qualcuna di esse rimane indietro, sussiste sempre il rischio che il rallentamento, oltre che a non incontrare adeguati ostacoli, colpisca anche chi invece sarebbe in grado di correre e di assumere un ruolo trainante, a vantaggio anche innanzitutto di chi sia rimasto indietro. Mi pare questa una versione assai malintesa di coesione nazionale e non mi soffermo sulle ricadute negative di cui soffrono i valori di solidarietà, di cui la coesione nazionale dovrebbe sempre essere espressione. Ebbene, in questo quadro, le inefficienze burocratiche, che sono le figlie primogenite del centralismo statale, ormai tradizionale in Italia, si rilevelano in realtà capaci di infliggere gravi iniquità tanto a chi potrebbe trainare quanto a chi si sia attardato. Ne risulta sacrificato per l'appunto proprio il principio di solidarietà, che non deve mai considerarsi nemico dell'efficacia e dell'efficienza, insomma del buon governo. Tutto questo non possiamo più permettercelo, oggi ancora meno che in passato. L'attuale drammatico scenario militare internazionale, infatti, con i suoi riflessi finanziari, economici e sociali, oltre che umanitari, si è posto dinnanzi alla nostra storia proprio quando stavamo iniziando a uscire dalla grave pandemia globale e ci impone sfide che non pensiamo pensare di vincere senza supporto della coesione sociale e territoriale, né soltanto con lo strumento che ci è abituale. Occorre imboccare anche nuove strade. In questo senso richiamo ancora le recenti parole del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione per il PNRR, Raffaele Fitto, pronunciate lo scorso 7 dicembre in risposta a un'interrogazione a risposta immediata presentato in questo ramo del Parlamento con riguardo all'autonomia differenziata, all'attuazione del federalismo fiscale inaugurato dalla legge 42 del 2009 e agli strumenti di carattere perequativo funzionali allo, cito il Presidente Fitto, sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese e per il superamento del consolidato gap che divide le aree meno sviluppate dalle altre. Le iniziative da mentre apprese si muovono su due direttrici accomunate dall'obiettivo unitario dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione. Le due direttrici sono costituite dalla predisposizione di un disegno di legge di attuazione dell'articolo 116, terzo comma e dal procedimento di determinazione dei LEP. Le risoluzioni parlamentari approvate a conclusione dell'esame della NAF hanno iniziato il disegno di legge con un'opera di fiducia pubblica. Già pochi giorni dopo l'insediamento di questo esecutivo ho avviato un profico confronto sul tema dell'autonomia differenziata con singole regioni interessate prima e poi in due occasioni il 17 e il 24 novembre 2022 con la conferenza delle regioni. Con le singole regioni e la conferenza è stato quindi avviato un confronto su alcune ipotesi di lavoro. Si tratta di un work in progress che io per primo considero una sorta di invito concreto alla riflessione. Incidentalmente mi fa piacere ricordare che il 6 dicembre scorso alla presenza del Presidente della Repubblica la conferenza si è dotata di una nuova veste giuridica e istituzionale costituendosi con intesa interregionale in applicazione dell'articolo 117 ottavo comma della Costituzione. Un'altra delle novità dimenticate ahimè della riforma del titolo quinto del 2001. Veniamo quindi alla valutazione delle due direttrici. La prima, la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard. Sul lato sostanziale e temporale le spinte all'autonomia differenziata saranno poste al servizio di una pronta e attenta determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Tale passaggio è destinato a rimanere anche a prescindere dagli specifici sviluppi che le singole iniziative regionali di differenziazione potranno avere e che simile opera massimamente impegnativa non è mai stata portata a compimento negli oltre vent'anni di storia del nuovo regionalismo delineato dalla riforma del titolo quinto. Il solo settore che può ad oggi dirsi compiutamente munito di un tessuto consolidato di livelli essenziali espressi con il corredo di anche sofisticati meccanismi di monitoraggio, misurazione e finanziamento è quello delle politiche sanitari con i relativi LEA. Una parte significativa del work in progress legislativo è stata utilmente inserita su mio impulso già nel disegno di legge di bilancio il cui articolo 143 disciplina il procedimento per la determinazione dei LEP in relazione all'attuazione dell'articolo 116 terzo coma della costruzione. Mi riservo di valutare le osservazioni già formulate in merito dall'ufficio parlamentare del bilancio audito nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di bilancio lo scorso 6 dicembre. Al testo stesso non nascondo soddisfazione per la relazione favorevole sul disegno di legge di bilancio approvato da questa prima commissione e trasmessa alla quinta commissione bilancio. In estrema sintesi l'articolo 143 prevede un percorso con tempi certi e responsabilità chiare per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle 23 materie suscettibili di entrare nei processi del regionalismo asimmetrico. Motore principale specialmente nei primi mesi è una cabina di regia appositamente costituita presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri che può delegare il Ministro per gli Affari Regionali e l'Autonomia e composta oltre che da quest'ultimo dal Ministro per gli Affari Europei il Sud le politiche di coesione e il PNR dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze nonché dai ministri competenti in base alle materie oltre che dai rappresentanti delle autonomie territoriali. La cabina di regia sarà impegnata un insieme complesso di attività che richiedono elevato approfondimento oltre a un forte coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti. I primi sei mesi saranno dedicati a una ricognizione tanto della normativa statale e delle specifiche funzioni amministrative esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario quanto della connessa spesa storica effettuata dallo Stato in ciascuna di esse per l'esercizio di ciascuna di tali funzioni nelle 23 materie. La complessità di questa operazione richiede il massimo supporto delle amministrazioni centrali rispettivamente competenti. Successivamente, ancora nel primo semestre del 2023 e sempre con necessario supporto delle amministrazioni competenti per materia, la cabina di regia procederà a denucleare dalle 23 materie o ambiti di esse i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Ciò sulla base delle risultanze della ricognizione giuridico-amministrativa suddetta nonché delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard. In sequenza, sempre sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, la cabina di regia determinerà i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali nelle cittate materie, così delimitando l'area dei LEP. La Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, secondo un modulo già noto al legislatore, sarà supportato da Sose e S.P.A., Società Soluzioni per il Sistema Economico e opererà in collaborazione con l'Istat e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Provence Autonome, Cilcinsedo. Nel corso del secondo semestre del 2023, la cabina di regia, mettendo a sistema i livelli essenziali con le ipotesi di costi e fabbisogni standard formulata dalla stessa Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, predisporrà uno, più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recanti anche distintamente, tra le varie materie suddette, la determinazione dei livelli essenziali e i correlati costi e fabbisogni standard. La disciplina ora all'esame di questa Camera contempla un espresso meccanismo per reagire a ritardi e inefficiente, prefigurando l'affidamento delle attività eventualmente non completate a un commissario con rimessione al decreto di nomina dell'individuazione degli specifici compiti e poteri. Ritengo più che opportuno che la cabina di regia possa essere munita di una propria struttura tecnica dedicata e stabile. Seconda linea direttrice Quanto al secondo percorso il metodo prescelto si pone in linea con alcune scelte già adottate in precedenza da altri governi tra 2017 e 2019 con particolare riferimento ai governi Gentiloni e Conte II con il sottosegretario Bressa e il ministro Boccia. La strada del disegno di legge di attuazione pur non essendo previsto espressamente dalla Costituzione persegue due obiettivi un più ordinato e coordinato processo di attuazione un più ampio coinvolgimento delle Camere e infatti l'ipotesi di lavoro relativa al disegno di legge di attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione a individua i principi per l'attribuzione di funzioni alle regioni che abbiano chiesto di attivare il percorso di autonomia differenziata ex articolo 116 terzo e delle connesse risorse umane strumentali e finanziari b definisce le modalità procedurali di approvazione dell'intese fra lo Stato e la singola regione in tale ipotesi di lavoro è ben presente l'impegno a dare sostanza all'esigenza di condividere con il Parlamento resa manifesta già dalla stessa scelta di affidare a una legge ordinaria del Parlamento il compito di attuare in via generale le disposizioni costituzionali sull'autonomia differenziata in tal modo le iniziative che ciascuna regione interessata vorrà di volta in volta sottoporre al governo e al Parlamento saranno condotte in modo adeguatamente rapido approfondito e omogeneo e accompagnati dagli addempimenti che il registratore avrà riteruto necessari sempre sul ruolo del Parlamento a fronte del testo costituzionale che si limita a fare riferimento alla sola legge di approvazione di un'intesa già conclusa l'idea di fondo è quella di valorizzare il coinvolgimento delle Camere fin dalla fase preliminare degli schemi di intesa quanto al finanziamento dell'autonomia differenziata sarà necessario adottare soluzioni quale ad esempio con partecipazioni a tributi erariali che siano commisurate alla maggiore spesa che le regioni interessati dovranno sostenere il criterio di quantificazione sarebbe in vista della determinazione dei costi dei fabbisogni standard quello della spesa destinata a carattere permanente fissa e ricorrente a legislazione vigente sostenuta dallo Stato nella regione per l'erogazione dei servizi pubblici destinati ad essere ceduti ceduti l'ipotesi di lavoro in corso di definizione dovrà poi dettagliare ulteriori aspetti come la durata e la rinnovabilità dell'intese nonché il monitoraggio a valle dei trasferimenti e la continuità ordinamentale tra le disposizioni statali previgente alle differenziazioni e quelle regionali adottate l'indomani infine sulla scorta di utili spunti provenienti tanto dall'esperienza comparata quanto dalla consolidata tradizione dell'autonomia speciali si prevede l'assegnazione alla commissione paritetica Stato-Regione nel complesso compito di individuare le risorse umane strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrà poi trovare conferma il principio di sussidiarietà ex articolo 118 della Costituzione consentendosi alla Regione di trasferire ulteriormente con propria legge agli enti locali sul territorio le funzioni acquisite dallo Stato con salvaguardia delle funzioni fondamentali già stabilite infine devo constatare che il tema dell'autonomia differenziata ha monopolizzato il dibattito agevolandone purtroppo una polarizzazione sulla base più di pregiudizi ideologici che della reale conoscenza delle questioni revanti e degli effettivi indirizzi seguiti dal sottoscritto il dialogo da me instaurato con i principali interlocutori ha consentito però di stemperare i contrasti e di discutere sui contenuti altre iniziative in carico al ministro per gli affari regionali e l'autonomia le attività che mi sono affidate e oggetto di specifica delega quale ministro per gli affari regionali e le autonomie spaziano ben oltre l'attuazione dell'articolo 116 terzo comma della costituzione in primo luogo un nucleo rilevante di attività riguarda il cosiddetto sistema delle conferenze il sottoscritto intende promuovere un sensibile rilancio nel segno della leale collaborazione sono passati quasi 30 anni da quando la corte costituzionale ne parlò qualificando la conferenza stato-regione come sede privilegiata del confronto e della negoziazione politica fra lo stato le regioni e province autonome al fine di favorire il raccordo e la collaborazione tra l'uno e le altre l'agenda di lavoro che ci attende estremamente impegnativa includendo molti provvedimento costituenti parte elevante del programma di governo non meno impegnativo sarà il lavoro che le conferenze saranno chiamate a svolgere sul piano della normazione primaria e secondaria e dell'amministrazione con riguardo al conseguimento degli obiettivi posti dal PNRR e al processo di attuazione che esso implica con tempi prefissati e destinati a un monitoraggio attento per non parlare del cosiddetto federalismo fiscale e comunque delle relazioni finanziarie fra i livelli di governo quanto alla tempestiva attuazione del PNRR dovrebbe essere valutata previa a condivisione con le autonomie territoriali l'ipotesi di una riduzione dei tempi di esame per l'espressione dei pareri e la conclusione delle intese ho prespettato al ministro Fitto alcune ipotesi di modifica legislativa in tal senso e poi mia intenzione è ridare centralità e vigore alla conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica istituita a norma dell'articolo 5 della legge 42 del 2009 sul federalismo fiscale e del decreto legislativo numero 68 del 2011 si tratta di una sede finora ahimè raramente utilizzata che può diventare un luogo privilegiato per condividere le scelte relative ai supporti ai rapporti finanziari fra Stato e autonomie territoriali il tema dei rapporti tra i diversi livelli di governo e di una completa attuazione della riforma del titolo quinto implica anche una più generale riflessione sull'ordinamento degli enti territoriali tale riflessione va oltre la revisione del testo unico degli enti locali che le risoluzioni approvato lo scorso 9 novembre da Camera e Senato sulla nota di aggiornamento del DEF impegnano il governo a considerare quale provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica essa implica anche la valutazione dell'aspetto istituzionale e del ruolo degli enti territoriali di area vasta quali delineato dalla legge 7 aprile 2014 numero 56 come noto la legge del Rio conteneva un'ampia riforma degli enti locali prevedendo l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province nell'attesa della riforma del titolo quinto il venir meno dalla prospettiva di riforma costituzionale con l'esito negativo del referendum costituzionale e la disomogeneità delle soluzioni adottate dalle regioni per la sua attuazione può rendere opportuna una rivisitazione del suo impianto con rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza ciò sia con riferimento alle funzioni quanto alle modalità elettive analogamente le nuove regole contabili applicabili anche alle regioni e agli enti locali e in particolare la sostituzione della disciplina del pareggio al previgente patto di stabilità interno sollecitano una riflessione sull'adeguatezza di taluni vincoli posti all'ordinamento degli enti territoriali fondati sul rispetto delle precedenti regole contabili tali vincoli hanno tra loro prodotto una difficoltà di funzionamento degli organi degli enti territoriali che potrebbero essere supporati con opportune modifiche normative mi riferisco ad esempio quale elemento di riflessione alla definizione con legge statale di un numero massimo di consiglieri e assessori regionali l'attuazione della normativa vigente in particolare nelle regioni più piccole ha mostrato evidenti criticità non posso poi che confermare la mia attenzione per la dimensione europea del sistema regionale italiano e per l'attuazione della sussidiarietà quale principio fondamentale dell'ordinamento europeo a tal fine intendo promuovere e valorizzare in base alla delega conferita il ruolo di raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo nonché di coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le istituzioni europee in coordinamento col ministro per gli affari europei il sud delle politiche di coesione il pnrr intendo inoltre contribuire nelle sedi competenti al raccordo delle linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti dell'unione europea con le esigenze dell'autonomia territoriale e svolgere un'attività di supporto alle regioni e agli enti locali fra le competenze attribuite al ministro per gli affari regionali le autonomie hanno un ruolo centrale quale connesse all'azione di governo per la salvaguardia e valorizzazione delle zone montane nel rispetto del dettato costituzionale e della legge quadro numero 97 del 1994 le politiche per la montagna talvolta caratterizzate da discontinuità di azione e da una governance complessa interessano una parte preponderante del territorio italiano quella caratterizzata da aree montane spesso organizzate in piccoli centri che in molti casi sono in grado di garantire ai residenti soltanto una limitata accessibilità ai servizi essenziali peraltro le problematiche delle aree montane si sono aggravate a seguito della crisi economica e finanziaria che ha colpito il nostro paese durante l'emergenza pandemica perciò occorre rimettere al centro le strategie di sviluppo delle zone montane sotto questo profilo credo si possa proseguire nel solco del lavoro già svolto dai miei predecessori in particolare dai ministri Stefani e Gelmini voglio ricordare in particolare l'impegno del ministro Stefani che all'inizio della scorsa legislatura aveva istituito dei tavoli tecnici tematici sulla montagna al fine di individuare soluzioni o iniziative per soddisfare l'esigente delle zone montane poi il ministro Gelmini aveva presentato al Parlamento verso la fine della scorsa legislatura un articolato disegno di legge inserito dal DEF 2022 tra i collegati alla manovra di bilancio 2023-2025 volto a un riassetto organico delle politiche pubbliche a favore dei territori montani e contestualmente a raccogliere in un test unitario le varie misure di sostegno uno dei punti di forza del disegno di legge era la strategia nazionale per la montagna italiana SNAMI definita dal ministro per gli affari regionali e le autonomie previa intesa in sede di conferenza unificata per un arco di tempo triennale con il compito di individuare le linee strategiche per lo sviluppo economico e sociale l'accessibilità dei servizi essenziali e delle infrastrutture digitali per gli abitanti dei territori montani il fondo per lo sviluppo delle montagne italiane istituito dalla legge di bilancio 2022 per la copertura finanziaria di tutte le misure a sostegno costituiva nel progetto lo strumento di attuazione della SNAMI a causa della fine anticipata della legislatura il Parlamento non ha potuto esaminare il testo sopraddetto che rappresenta tuttavia un punto di partenza per il nostro prossimo lavoro a favore delle zone montane del paese proprio in occasione della giornata internazionale della montagna a Edolo pochi giorni fa ho ribadito il mio impegno a presentare un disegno di legge sulla montagna con l'auspicio che possa essere approvato in tempi brevi dal Parlamento abbiamo inoltre deciso di mettere in campo interventi concreti nell'interesse dei territori montani e dei cittadini che vi abitano stiamo lavorando ad erogare rapidamente la quarta parte statale di 15 milioni di euro del FOSMIT il fondo per lo sviluppo delle montagne italiane con l'obiettivo di garantire 11 milioni per il sostegno in questo momento complicato agli impianti di risalita con il innevamento artificiale e contemporaneamente investire 4 milioni nell'imprenditoria femminile a supporto per le loro sta innovative delle tante donne che muovono la montagna titolo che è stato attribuito proprio questo anno a questa giornata della montagna dalla FAO che si vanno aggiungere ai 109 che stanno venendo erogati per il tramite delle regioni abbiamo inoltre in previsione di confermare gli oltre 200 milioni di contributi nel FOSMIT nei prossimi tre anni rispetto ai 129 milioni del 2022 la politica può e deve lavorare nell'ottica di favorire lo sviluppo sostenibile dei territori montani che costituiscono una risorsa fondamentale per il Paese il mio lavoro andrà esattamente in questa direzione nell'ambito delle iniziative costituzionali tra le materie ricomprese nel titolo quinto come previsto dalle deleghe di funzioni si potrà proseguire l'approfondimento per l'attuazione dell'articolo 114 terzo comma della Costituzione in materia di Roma Capitale valorizzando il lavoro svolto nella passata legislatura in cui si è raggiunti all'approvazione di un testo proprio presto a questa commissione in ordine alla competenza sulle isole minore e le aree interne i problemi inerenti alle piccole isole saranno oggetto interventi anche normativi di natura territoriale economica sociale volti alla loro valorizzazione e in particolare alla modernizzazione del sistema amministrativo territoriale dei suddetti enti con particolare riferimento all'area interna del paese il nostro obiettivo sarà assicurare sviluppo e coesione territoriale per contrastare fenomeni di marginalizzazione e declino demografici a tal fine sarà fondamentale la collaborazione con il ministro per gli affari europei sud la politica di coesione per il PNR la ministra per la famiglia l'antinatalità le pari opportunità e in generale con tutti gli altri soggetti istituzionali interessati è mia intenzione inoltre promuovere ulteriormente la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale al fine di garantire il superamento delle condizioni di svantaggio dei comuni confinanti in particolare ai 48 comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge finanziaria 2010 dovrà continuare ad essere assicurato il finanziamento derivante dal fondo comune di confine alimentato annualmente con 40 milioni di euro da ciascuna delle due province autonome merita inoltre un rifinanziamento per il prossimo anno territoriali svantaggiate confinanti con le regioni Val d'Aosta e Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la competenza relativa alla tutela delle minoranze linguistiche ai sensi della legge 482 del 1999 è mio intendimento non limitarmi alla ripartizione del fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche che come noto finanzia i progetti di conservazione e diffusione delle lingue minoritarie infatti per la tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche intendo considerare con attenzione anche la promozione di specifiche iniziative un altro aspetto che non investe direttamente l'attività normativa è costituito dal contenzioso costituzionale fra Stato e Regioni ritengo necessario perseguire l'obiettivo di un significativo snellimento di detto contenzioso in virtù del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni anche sotto questo aspetto si è rivelato assai utile il lavoro di un gruppo apposito di lavoro si è istituito presso il Dipartimento per l'elaborazione di una direttiva per la procedura di esami delle leggi regionali e provinciali da parte degli organi ministeriali competenti e mia intenzione promuovere ogni iniziativa utile per prevenere il contenzioso costituzionale conforme di collaborazione fattiva con le Regioni in modo da circoscrivere i casi di ricorso in via principale del governo avverso leggi regionali attualmente la produzione media è intorno ai 6-700 leggi regionali di cui il 12% hanno un'impugna attiva attivandosi nel raccordo fra le varie amministrazioni centrali e le Regioni con chiarimenti o correzioni delle stesse nel primo mese e 20 giorni di governo abbiamo avuto 49 non impugnative e 2 rinunce all'impugnativa con un beneficio economico e dalla certezza normativa dall'altro per quanto riguarda le commissioni paritetiche per l'emanazione delle norme di attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale ricordo che la nomina dei componenti di parte statale è demandata per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie sotto questo profilo intendo procedere all'adozione di decreti di costituzione delle suddette commissioni con cura ma anche con rapidità spero per la commissione dei 6 di Bolzano e quella di Trento dei 12 di riuscire a chiudere già nel giro di questa settimana ricordo che le commissioni secondo la giurisprudenza costituzionale sentenza 109 del 1995 sono previste da tutti gli statuti speciali e costituiscono strumento di collaborazione finalizzato alla ricerca di una sintesi positiva fra posizioni e interessi diversi occorre assicurare questa bilateralità paritetica che funge da insostituibile cifra caratteristica della specialità del regionalismo italiano una menzione peculiare meritano infine le questioni relative ai servizi pubblici locali che costituiscono oggetto di specifica delega attribuita al ministro per gli affari regionali e le autonomie di raccordo con i ministri interessati si tratta di un ambito di specifico rilievo anche economico rispetto al quale le esigenze di raccordo fra stato autonomie territoriali e vincoli europei si sono rivelate essenziali costituisce un esempio di buona pratica l'attività istruttoria posta in essere dal dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sul recente schema di decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali di irrelevanza economica su cui sono stati acquisiti i prescritti pareri e intese della conferenza unificata al termine di un cammino complesso ma infine condiviso con regioni ed enti locali è stato inoltre istituito a conclusione dell'esame un tavolo tecnico di confronto con gli enti territoriali che ha avviato i suoi lavori la settimana scorsa è la dimostrazione che la leale collaborazione può condurre a risultati altrimenti insperati in prospettiva il rinnovato ruolo delle province potrebbe trovare riscontro anche per quanto riguarda i servizi pubblici locali concludendo come si vede non sono poche le sfide che attendono governo e parlamento nello esclusivo compito di rispondere alle pressanti richieste che vengono dal paese a partire dal rilancio dell'economia e del lavoro e dell'efficiente ed efficacia dell'azione amministrativa a tutti i livelli il mio intervento si è concluso resto a vostra disposizione vi ringrazio dall'attenzione e a corpetto le vostre domande grazie grazie ministro Calderoli per la sua relazione molto completa adesso passiamo agli interventi dei deputati della prima commissione oggi presenti ricordo che il tempo a loro disposizione di 5 minuti salvo che all'interno del gruppo non vogliano spacchettare diciamo così questo tempo fra più deputati il primo ad aver chiesto intervenire l'onorevole Zaratti del gruppo Verdi quindi Verdi e Sinistra e poi passiamo questo è il primo giro poi passiamo agli altri deputati che si sono iscritti prego a lei grazie presidente grazie al ministro per la relazione dettagliata delle attività che intende svolgere e che dovrà necessariamente vedere lo spirito di leale collaborazione di cui all'inizio ha parlato opportunamente che noi abbiamo apprezzato dobbiamo però constatare che questo principio di leale collaborazione già in questi primi tempi è venuto un po' meno perché la questione centrale di cui a cui lei ha dedicato gran parte della sua relazione che è la questione appunto dell'autonomia differenziata è una discussione che entra in qualche modo ufficialmente adesso nel Parlamento è una discussione che ha coinvolto il Paese lei lo ha ricordato ci sono stati incontri la conferenza Stato-Regioni ma io vorrei ricordare che questioni così importanti e fondamentali che riguardano l'assetto istituzionale del Paese la sua unità la gestione dei diritti fondamentali dei nostri cittadini questa competenza appartiene e rimane al Parlamento è il Parlamento che deve essere in grado di poter legiferare su questa materia e che la discussione anche quella politica appartiene al Parlamento e su questo io penso che sia necessario una critica per il tragitto che è stato fatto finora quindi riteniamo che ricondurre la discussione all'interno del Parlamento rappresenta un primo fondamentale elemento della discussione noi glielo dico Ministro siamo per l'unità del Paese pur nel rispetto ovviamente delle differenze e delle autonomie a cominciare da quelle del Sud Tirolo a quelle della Val d'Aosta alle altre a Stato Speciale Sicilia Sardegna Friuli ma diciamo l'elemento fondamentale è l'unità del Paese e come si misura l'unità del Paese l'unità del Paese si misura sulla eguaglianza dei diritti così come peraltro ricorda l'articolo 3 della Costituzione e questa riforma che viene proposta invece sembra voler accentuare i livelli di spereguazione tra le nostre regioni l'accenno che c'era nelle bozze che sono circolate nei giorni scorsi del fatto di parametrare i livelli diciamo di assistenza alle singole regioni partendo dalla spesa storica sta a testimoniare effettivamente che le regioni ricche diventeranno più ricche le regioni più povere diventeranno più povere aumentando il dislivello tra le nostre regioni sui livelli minimi che bisogna assicurare ai nostri concittadini non apprezziamo lo devo dire anche questo ricorso alla legge di stabilità per definire la cabina di regia sui LEP i livelli essenziali delle prestazioni rimangono elemento essenziale della nostra discussione in un'accezione che dal nostro punto di vista deve essere un'accezione ampia cioè quella di definire i diritti sociali e civili voglio aggiungere anche ambientali perché fondamentalmente questo è un punto critichiamo l'articolo 143 perché perché riteniamo che la discussione deve avvenire nel Parlamento su questioni fondamentali come l'ERPA la discussione deve avvenire qui dentro non possiamo delegare con tutta la stima che abbiamo nella sua persona a lei che già si definisce nell'articolo commissario perché dovrebbe guidare la cabina di regia il Presidente del Consiglio che può delegare appunto il Ministro incaricato in questo caso a lei non possiamo delegare lei nel definire quali sono i diritti essenziali dei cittadini e delle cittadine italiane noi chiediamo che questa discussione avvenga qui dentro e che siano i cittadini a definire chiudo Presidente penso che su questa partita discuteremo molto ci confronteremo noi abbiamo proposto una bicamerale speriamo che possa essere presa in esame queste ipotesi per discutere questa questione aggiungo che invece riteniamo opportune diciamo le dichiarazioni che le ha fatto in merito alla riforma della cosiddetta legge del Rio che ha causato così tanti danni nel nostro paese e che quindi rimettere mano a quella riforma è una questione fondamentale così come condividiamo che il principio della coesione nazionale che sta diciamo così sia nel rilancio delle aree interne sia nell'affrontare la questione della montagna a partire dalla strategia nazionale appunto per la montagna sono questioni sulle quali noi vogliamo portare un contributo di idee un contributo concreto di proposte grazie Presidente grazie ha sposato un pochettino però va bene lo stesso adesso sarebbe dovuto intervenire l'onorevole Urzi io avrei una scaletta però c'è la collega Deborah Bergamini che mi chiede cortesemente se per voi va bene è collegata da remoto le diamo la parola quindi onorevole Bergamini a lei l'intervento per il gruppo di Forza Italia a 5 minuti prego onorevole Bergamini grazie Presidente Pagano la ringrazio molto purtroppo sono ancora in convalescenza e quindi così posso poi diciamo scollegarmi quindi la ringrazio molto e ringrazio i colleghi che mi hanno consentito di fare questo intervento intanto un sincero augurio di buon lavoro al Ministro Calderoli e un buon lavoro perché sicuramente ha una sfida tutt'altro che facile quella di prendersi la responsabilità a fronte governo di gestire quello che io ritengo essere un grandissimo pasticcio che dalla riforma del titolo quinto fatta a colpi di maggioranza nel 2001 in avanti ha generato nel nostro paese una serie di problemi enorme che siamo chiamati a dover una volta per tutte secondo me risolvere non sarà assolutamente semplice ne siamo tutti consapevoli ma credo che questa sia l'occasione per farlo questo avvio di legislatura con tante questioni che sono maturate nel corso degli anni nel bene e nel male e che oggi ci chiamano ad una responsabilità supplementare perché mi piace considerare la parola la coesione nazionale in modo non burocratico ma in modo ontologico in modo oggettivo e se vogliamo davvero raggiungere questo obiettivo e farlo nel modo migliore dovremmo sforzarci tutti di non essere ideologici di non affezionarci troppo ai nostri convincimenti sapendo che abbiamo tra le mani una questione di grandissima complessità forse uno dei nodi fondamentali di tutte le potenzialità inespresse del nostro paese e anche lasciatemelo dire del grande disagio che molti nostri concittadini sentono nei confronti della parola Stato perché quella modifica del titolo quinto per tanti aspetti ha provocato così tanti disagi inefficienze confusioni che oggi se c'è ancora meno fiducia nello Stato credo che questo sia legato anche a quella modifica quindi ci dobbiamo lavorare ci dobbiamo lavorare tutti e mi piace molto il richiamo alla leale collaborazione che il ministro ha fatto più volte nel corso dell'enunciazione delle sue linee programmatiche perché dovremmo avere leale collaborazione e spero ed auspico che il Parlamento farà la sua parte con tutte le forze politiche vi rappresentate e che lo farà con spirito di grande autonomia con spirito propositivo è giusto che ognuno porti le proprie idee di come vorremmo disegnare il corretto rapporto tra lo Stato e le regioni e gli enti locali in generale e spero ed auspico che commissione bicamerale o meno questo lavoro venga fatto davvero nello spirito più alto della nostra Repubblica questo è un po' il mio auspicio di avvio di legislatura e che sono sicura sarà condiviso da tutti i colleghi e i commissari della prima commissione e quindi collaboreremo senz'altro assieme molte le cose da fare condivido il richiamo alla legge del rio che va sicuramente modificata e voglio aggiungere soltanto un elemento invece più specifico perché c'è stato un impegno anche nel governo precedente rispetto a questo abbiamo parlato della montagna ecco bene il disegno di legge sulla montagna andiamo avanti in un lavoro che è un lavoro di valorizzazione di zone fondamentali del nostro paese spesso lasciate indietro chiedo però al ministro questa non è una domanda è una sollecitazione chiedo nell'ambito della revisione complessiva della normativa sulla montagna e sul rilancio della montagna apprezzo molto i fondi che ci ha detto verranno dedicati agli impianti di risalita nelle zone in cui si inneva in modo artificiale l'imprenditoria femminile però ecco chiedo di superare una differenza di approccio che c'è stata nel corso degli anni fra le montagne delle Alpi e le montagne appenniniche lo dico da parlamentare toscana che si è molto battuta per la valorizzazione della montagna appenninica ho riscontrato che spesso la forza che chiaramente è sempre un elemento positivo però la forza economica politica delle regioni delle Alpi ha schiacciato qualche volta anche in termini economici le potenzialità di sviluppo invece della montagna appenninica che io invece ritengo debba avere stessa identità e stesso valore e che possa essere senz'altro aiutata per quello che è necessario e che spero venga fatto anche grazie alla volontà politica di questo governo grazie e ancora buon lavoro grazie onorevole Bergamini incredibile ma ci ha messo esattamente cinque minuti perfetti quindi lei è veramente un esempio per tutti e poi ci è piaciuto anche il riferimento agli appennini grazie onorevole Bergamini passo la parola ad Alessandro Ulzi che invece è di Bolzano quindi magari la pensa diversamente no non è vero ok a lei cinque minuti e non sarò severo grazie presidente che voglio ringraziare grazie presidente voglio ringraziare il ministro per l'efficace relazione che ha rappresentato perfettamente il quadro degli interventi che sono previsti da parte del suo ministero anzi vorrei dire di più forse cogliamo un tratto molto pragmatico che è quello impresso peraltro da questo governo che è quello dell'efficienza e dell'immediata risposta se è vero come è vero che una serie di provvedimenti sono già inseriti nella manovra di bilancio che decisioni sono già annunciate sulla composizione per esempio degli organi paritetici Stato provincia autonome che siano realmente rappresentativi della pariteticità e quindi rappresentanti dello Stato rappresentanti degli enti e locali come è giusto che sia per rappresentare gli interessi in maniera piena e compiuta e quindi non posso che apprezzare questa impostazione ecco io mi permetto di esprimere un'ampia fiducia rispetto ad un percorso che è stato indicato in maniera molto chiara dal Ministro solidarietà in un quadro di coesione nazionale sussidiarietà questo per quanto riguarda il tema principale del suo intervento cioè quello dell'autonomia differenziata tutela degli interessi dei cittadini perché poi l'autonomia che cosa significa se non risposta ad un bisogno dei territori sulla base peraltro di presupposti costituzionali che sono stati dettati da una riforma che ha visto la luce sulla base di una iniziativa dei governi di sinistra ma poi accolta ampiamente non solo attraverso il voto popolare ma dalla più ampia parte della comunità nazionale che poi alcune regioni hanno interpretato nel modo che ritenevano più opportuno avviando i processi previsti dalla Costituzione per chiedere questo tipo di opportunità si tratta come detto dal Ministro di creare il quadro di garanzia di coesione nazionale e questo mi pare perfettamente in linea con le iniziative che si stanno delineando e che il Ministro ha illustrato sulla definizione dei LEP io faccio fatica onestamente a comprendere lo dice chi ha fatto svolto un ruolo politico di opposizione per 24 anni quindi 24 anni all'opposizione ma faccio fatica a comprendere l'opposizione per l'opposizione ossia il pensare ritenere lo dico al collega Zaratti con la cortesia il garbo e anche la simpatia personale a pensare sempre come dire che le maggioranze che ci si trovano di fronte debbano per forza pensare a quadri distruttivi cioè sulla base di quale meccanismo possa essere pensato oggi che l'intenzione sia quella di creare sperequazione nel paese io dedicherei e darei fiducia e credito di fiducia poi è evidentemente auspicabile necessario opportuno che sia il Parlamento ma qui siamo in un'articolazione di parlamentare e stiamo già svolgendo il nostro ruolo ad interpretare le sue funzioni e così come sarà nelle previsioni poter articolare anche il proprio ruolo che legittimamente viene assegnato io Presidente aggiungerei che evidentemente tutto questo non siamo così sprovveduti si inserisce nel solco di un dibattito che si sta articolando ormai da vent'anni nel paese e che ha la necessità di essere affrontato e non rinviato sine die mi è piaciuto molto il riferimento a Roma Capitale ci poteva stare ma non è nelle prerogative dirette del Ministero per gli Affari Regionali anche il tema del presidenzialismo che dal nostro punto di vista deve accompagnarsi in modo parallelo affinché sia rafforzato quel quadro di coesione nazionale questo lo dico lo lascio come dire come testimonianza forte della nostra piena consapevolezza del nostro ruolo ma mi è piaciuto anche molto l'allargamento sulle altre ulteriori competenze del Ministero e riferimento proprio alle politiche sulla montagna credo che sia strategico per pensare a un paese che vive anche al suo interno e non solo nei grandi centri urbani e importante anche i riferimenti alle autonomie speciali alle minoranze linguistiche e al mantenimento dei fondi ODI per insomma i territori prossimi al confini delle province autonome di Trento e di Bolzano e in prospettiva anche con nuova denominazione per le regioni Friuli-Venezia-Giulia e Valle d'Aosta il nostro ruolo lo eserciteremo appieno non ho domande da fare perché prendo atto di un quadro estremamente limpido e chiaro dettato dal Ministro che apprezzo e sul quale il nostro impegno sarà evidentemente positivo e costruttivo grazie anche lei si è attenuto ai tempi la ringrazio onorevole Uzi adesso passiamo al gruppo del Partito Democratico abbiamo due iscritti se voi mi autorizzate darei due minuti e mezzo a testa l'onorevole Provenzano e l'onorevole Schlein chi parla per prima Provenzano prego allora prima l'onorevole Provenzano due minuti e mezzo e poi l'onorevole Schlein Presidente ci gestiamo noi i tempi l'onorevole Schlein interviene ovviamente sì la ringrazio per questo e ringrazio il Ministro per la sua dettagliata relazione anche per i richiami che ha fatto nel corso della relazione i principi costituzionali non posso non rilevare Ministro come ne abbia dimenticato uno fondamentale quello dell'uguaglianza che è sancito all'articolo 3 e che precede l'articolo 5 quello in cui nell'ambito di una Repubblica che deve rimanere una indivisibile si richiama il concetto dell'autonomia vede Ministro io ho particolarmente apprezzato il fatto che lei non abbia partecipato a differenza dei suoi colleghi all'esercizio di fantasia ideologica che ha portato a questa ridefinizione dei nomi dei ministeri non vorrei che lei cambiasse però nei fatti il nome del suo ministero diventando il ministro delle disuguaglianze e le dico perché collega Urzi perché nella storia del nostro paese le disuguaglianze hanno una profonda accessione territoriale e non si riducono soltanto alla frattura tra nord e sud ma hanno a che fare con i rapporti tra centro e periferia tra aree urbane e aree interne qui lei non ha citato Ministro una strategia nazionale quella per le aree interne che è uno dei punti di riferimenti europei su questo tema mentre ha parlato della montagna e io voglio mettere diciamo davvero qui un punto sul fatto che noi abbiamo una montagna ricca e una montagna povera nel nostro paese c'è una grande questione appenninica che è stata citata anche dalla collega Bergamini che ha bisogno di politiche specifiche che si intrecchino con quelle delle aree interne perché altrimenti il rischio è quello di fare parti uguali tra diseguali vede il concetto di autonomia è un concetto nobilissimo richiama la libertà la democrazia come lei diceva afferisce diversi ambiti della vita umana ma nella dimensione istituzionale e territoriale a cosa dovrebbe tendere l'autonomia a migliorare il rapporto tra istituzioni e cittadini su questo credo siamo tutti d'accordo oggi questo rapporto è segnato dalla presenza nel nostro paese lei lo accennava di profondissimi divari di cittadinanza sul piano territoriale e questi sono la prima causa di sfiducia nel rapporto tra cittadini e istituzioni lei vuole intervenire ma cosa si propone di fare cosa ci propone vede lei qui ci dice leale collaborazione noi siamo d'accordo spirito costruttivo ci invita a non avere pregiudizi lei però ministro ha pregiudicato un po' il nostro lavoro perché per esempio su un tema fondamentale come quello dell'autonomia differenziata questo Parlamento non ha avuto nemmeno la possibilità a differenza diciamo del lavoro che è stato fatto con la conferenza delle regioni per esaminare le bozze attraverso le quali lei sta andando avanti con il lavoro noi le abbiamo intraviste e questo è un io penso una un grave una grave mancanza di sensibilità nei confronti di questo Parlamento e della nostra commissione in particolare quelle intese bilaterali l'inemendabilità delle intese bilaterali lì prevista esautora di fatto il ruolo del Parlamento ma c'è un punto sul quale io vorrei soffermarmi il fatto che diciamo lì abbiamo visto lei qui lo ha confermato che quelle ulteriori forme e condizioni di autonomia sono previste per tutte le materie quindi anche per i grandi pilastri della cittadinanza in questo noi vediamo e non possiamo non dirlo ministro con una redizione di quello spirito secessionista secondo il quale una regione può definire gli indirizzi e i programmi scolastici persino assumere il personale magari sulla base della residenza come è stato proposto negli anni scorsi da qualche presidente di regione minando un mito fondativo della nazione della scuola come tutti quella di Deacis del libro cuore perché quello è il fondamento della nostra cittadinanza e non mi riferisco solo alla scuola perché come si può immaginare per esempio che attraverso una devoluzione di tutte le materie lo Stato possa subentrare una regione possa subentrare allo Stato come concessionario delle reti ferroviarie autostradali noi di questo rischiamo di parlare e non solo immaginare in quell'accesso a tutte le materie l'articolo 116 terzo comma unito alla mancanza dei criteri d'accesso che chiariscano questo è il punto fondamentale efficienza ed efficacia però io so Presidente che il Ministro visto che ci ha lungamente intrattenuto con la sua relazione ha la disponibilità ad ascoltarci perché questo è un punto fondamentale e non so quando riavremo l'occasione la mancanza di un criterio di accesso ci impedisce di valutare l'efficacia e l'efficienza della devoluzione di quelle materie alle singole regioni per non parlare del tema delle risorse il riferimento all'aspetta storica che significa cristallizzare i divari e quella con partecipazione al gettito che rischia di inserire surrettiziamente la stessa logica del residuo fiscale che invece va ripudiata la pagare di chiudere perché ha subito già tutto il tempo una questione di pericolazione con gli altri gruppi sì sì ma io chiudo su un punto però che è quello sul quale noi ci stiamo confrontando in queste ore il tema dei LEP ma qui lei diciamo con questa accelerazione sui LEP lei non solo fa un passo indietro diciamo ma anche rispetto a se stesso rispetto all'attuazione del federalismo fiscale perché qui eh in legge di bilancio è discutibile innanzitutto il fatto che i LEP si determinano in funzione dell'autonomia differenziata quando vanno determinati a prescindere come è stato ricordato il ruolo del Parlamento viene completamente esautorato eh ma soprattutto non si possono fare i LEP coi fichi secchi questo è il punto fondamentale perché non si possono fare i LEP coi fichi secchi perché senza risorse caro Ministro i LEP diciamo in questo modo significa cristallizzare i divari oppure lei ha un'alternativa a invarianza di risorse o togliere risorse alle regioni che offrono già più servizi o invece rinunciare a quella per equazione e a colmare i divari questo è un punto fondamentale non vorrei che ci riportasse indietro rispetto persino a se stesso Ministro a quella legge 42 del 2009 che immaginava un criterio di federalismo cooperativo che qui invece è quello che viene totalmente messo in discussione e per il quale noi ci opporremo in tutte le forme invitando a ripensarci seriamente e a lavorare davvero con questo Parlamento in quello spirito di leale collaborazione di cui hanno bisogno tutte le istituzioni Allora l'onorevole perché è giusto dirlo agli altri gruppi Provenzano ha parlato per sette minuti quindi abbondantemente sforrato per tutto il tempo previsto per il Partito però se siete d'accordo l'onorevole Eddie Schlein voleva comunque intervenire io qualche minuto glielo concederei se voi siete tutti d'accordo non se la deve prendere con me però no no mi scuso io però si è scusato lei e la sua collega ho approvittato la disponibilità però le regole erano quelle stabilite in ufficio di presidenza prego onorevole Schlein la prego davvero di essere telegrafica grazie Presidente ho messo il timer così mi tengo d'occhio da sola grazie Ministro cercherò di essere brevissima anche per rispetto appunto dei tempi degli altri gruppi Ministro non mi ha convinta sa cosa penso dell'approccio pericoloso su questa materia che avete avviato subito soprattutto sa cosa penso di questo tentativo di scavalcare il Parlamento sulla determinazione dei livelli essenziali di prestazione che al di là del nome tecnico trattano i diritti fondamentali delle persone sull'accesso alla sanità e al diritto alla cura sull'accesso alla scuola io vorrei vedere più sensibilità di questo governo e di questa maggioranza su questi temi così importanti soprattutto dopo i segni evidenti che ha lasciato una pandemia che ha acuito ulteriormente le diseguaglianze sociali e anche quelle territoriali al di là delle bozze che ci avevano già preoccupato e che sono circolate questa novità inserita nella legge finanziaria della cabina di regia per fissare i LEP eventualmente addirittura commissariata è contraria a quello che il quadro costituzionale ci impone per discutere in questo Parlamento di quei diritti fondamentali e come garantirli e sono preoccupata anche che nella sua articolata relazione sia mancato il tema delle risorse e degli investimenti non c'è un fondo di perequazione non c'è un'idea di come rilanciare uno sviluppo sostenibile per ridurre quei divari ecco su questo terreno potremmo provare a dialogare e a confrontarci in modo costruttivo quale politi per quello sviluppo e chiudo dicendo che appunto questo inserimento nell'articolo 143 del riferimento alla spesa storica vuole cristallizzare e perpetuare i divari esistenti soprattutto con l'invarianza di bilancio allora io mi chiedo e chiedo a lei come si pensa di ricucire quei divari e di non dividere ulteriormente il paese perché la questione meridionale non è una questione del sud è una questione nazionale e ci si rialza dopo un momento di difficoltà soltanto se si ha la cura non di partire a corsa che è più veloce ma di tendere una mano a chi sta facendo più fatica nell'interesse della coesione nazionale grazie grazie lei è stata davvero un minuto e cinquanta quindi è stata davvero telegrafica per la verità adesso avrebbe dovuto intervenire l'onorevole Stefani per il gruppo della Lega e poi l'onorevole Euriema per il gruppo del Movimento 5 Stelle ma il ministro mi chiede di anticipare una sua replica e poi magari proseguire quindi se siete d'accordo dimentica le domande quindi una replica sintetica del ministro e poi riprendiamo con gli ultimi due interventi prego ministro Calderoli grazie a lei gliel'ho chiesto proprio per poterlo fare in maniera puntuale perché sennò ho paura che dopo diventi un minestrone e che non si riesca più a capire e fare un riferimento parto dall'onorevole Danatti la competenza del Parlamento vede il senatore il fatto che io abbia interloquito con enti locali regioni eccetera io ho una stella cometa è l'articolo 114 dalla Costituzione la Repubblica è costituita da comuni provine città metropolitane regioni e Stato e per me sono tutti elementi costitutivi della Repubblica e non ci sono soggetti serie A B C D il lavoro che ho iniziato di interlocuzione il testo io in questo momento non l'ho ancora definito e quindi nel momento in cui ci sarà l'esame il consiglio dei ministri del testo il passaggio in conferenza unificata e poi l'assegnazione al Parlamento inizieremo a discutere di quel testo e la sede dove si deve discutere è proprio quello lei ha sottolineato la necessità di unità del Paese ne sono più ancora convinto di lei di questa unità del Paese con un livellamento che io vorrei per tutti verso l'alto e non verso il basso perché la standardizzazione al ribasso non è una cosa che mi piace oggi i diritti civili e sociali mi spiace che ce ne si accorga solo quando si parla di autonomia differenziata dopo 21 anni non sono stati definiti non solo sulle 23 materie che possono essere oggetto di trasferimento ma non sono state praticamente se non marginalmente a spot sulla sanità piuttosto che su altri soggetti neanche su tutte le altre lettere che fanno parte del secondo comma e che credo lo Stato dovrebbe comunque garantire in maniera egalitaria quindi se c'è una sperequazione se ci sono delle difformità nell'erogazione di quei diritti riferiti a diritti civili e sociali della prima parte della Costituzione io credo che se è una mia preoccupazione andare a definirli credo che avrebbe dovuto essere nei passati 21 anni da parte di qualunque legislatore sia passato perché in 21 anni nessuno ha fatto praticamente niente se non girarsi dall'altra parte spesa storica sembra di stimolare quando si parla di spesa storica un demonio il demonio della spesa storica io vorrei conoscere quel demonio perché io ho chiesto che uno dei primi lavori che debba essere affidata alla ragioneria e poi alla cabina di regia è la definizione della spesa storica regionalizzata per materia e per singola funzione io ad oggi non la conosco e ho intenzione di andare a definirla non perché questo è il mio punto di arrivo ma il punto di partenza perché se io non so cosa spendo a fare un qualcosa difficilmente saprò che cosa faccio e la prima fase ricognitiva rispetto alle attività legislative e amministrative svolto dallo Stato e delle Regioni credo sia la cosa fondamentale per riuscire a superare quello che è stato prima dall'onorevole Bergamini contestato non so se l'ha chiamato pasticcio il 117 che sia un pasticcio ne siamo molto convinti praticamente tutti personalmente ho cercato di cambiare quello che secondo me era complessa come la materia concorrente restituendo qualcosa allo Stato e attribuendo definitivamente qualcosa alle Regioni con la devolution approvata dal Parlamento bocciata dal referendum lo stesso ha fatto Renzi in maniera diversa ma anche la sua riforma è stata bocciata dal referendum a questo punto io non vorrei che l'articolo 117 e 116 non sia più figli di nessuno perché quelle 23 materie non le ho scritte mica io e oggi oggettivamente quando più volte me le sono rilette vorrei veramente essere un neurone che entra a vedere chi è che ha pensato le norme generali sull'istruzione come possono essere trasferite in maniera esclusiva alle Regioni perché il nome stesso della materia prefigurerebbe che se sono generali non dovrebbero essere oggetti differenziazione non lo scrive non lo no 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 mi scusi io non posso togliere o mettere una materia a mio piacimento che c'è in Costituzione bisogna avere a vedere primo se ci sarà una Regione che la richiederà secondo se ci sarà un Governo che sottoscriverà un'impreintesa poi ci sarà il parere sulla preintesa del Parlamento e poi ci sarà un voto a maggioranza assoluta del Parlamento quindi non è che c'è la Regione chiede il Governo firma è finita lì non è così oggi purtroppo io lavoro con quello che ho nel piatto se ho quale 23 materie posso fare una valutazione come ho fatto sbagliando in questo momento perché comunque la Costituzione dice che quella materia può essere trasferita poi dipenderà se ci sarà un Governo un Parlamento che voterà se o meno rispetto all'attribuzione di quella competenza sul discorso ritornando un attimo sulla spesa storica io credo che nella ricognizione che stiamo facendo emergeranno delle sorprese clamorose rispetto a quelle che sono d'accordo con lei che i diritti civili e sociali possano essere dati e sono dati in maniera diversa seconda anche con dicotomie che fanno nord-nord o sud-sud quindi non sicuramente solo sull'asse verticale ma io non vorrei che invece ci fossero territori dove l'erogazione dei servizi relativi a diritti civili e sociali sia più bassa che in altre realtà e che quel territorio però in termini di risorse riceva uguale addirittura di più delle realtà dove i servizi vengono erogati io non mi sto presendo la presunzione di dire è così faccio fare i conti ma il primo credo la prima risposta che i cittadini devono chiederci è un utilizzo adeguato da parte degli amministratori da parte dello Stato di quelle risorse e che quelle risorse corrispondano effettivamente all'erogazione di servizi civili e sociali le faccio un esempio proprio per banalizzare in maniera estrema non credo che la carta di identità possa essere definita un le può darsi che lo sia ma se lo Stato mi dice che io devo essere in possesso di un documento identificativo io vorrei sapere se lo Stato me lo deve dare di carta oppure in forma digitale o perché in alcune realtà la carta di identità te la danno al giorno stesso previ alla firma del sindaco che tu la richiedi e ci sono realtà dove anche a livello di città metropolitane dove ci vogliono 6, 8, 10 mesi per avere la carta di identità è un estremo quella della carta di identità ma io vorrei che in tutta Italia la carta di identità arrivasse entro il termine temporale che un LEP dirà entro questo termine temporale il comune deve erogarti la carta di identità la cabina di regia è l'esproprio rispetto ai livelli essenziali è bello sentire che il Parlamento avrebbe voluto scriverli però non li ha mai scritti tutti gli esempi che noi abbiamo sia riferiti al federalismo fiscale su costi e fabbisogni standard che partendo da legge 42 dai decreti legislativi rinviano a una definizione dei costi e fabbisogni standard attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e nessuno ha mai accepito alcunché i LEA che sono equivalenti all'EP hanno una denominazione diversa perché dicendo da una legge del decreto legislativo del 92 quindi in periodi precedenti ai livelli essenziali di prestazioni malea e LEA hanno lo stesso significati sono stati definiti nel 2017 con un dpcm il ho qui perché me l'hanno proprio poco fa sottoposta i LAPT che sono i LEAPT in termini ambientali eccetera legge 8 giugno 2016 che rinvia a un dpcm che è questo la bozza che verrà portata per la definizione dei LEAPT riguardo alle materie ambientali quindi se è andato bene sempre lo strumento del dpcm non capisco perché alcune materie e io le dico la sanità la ritengo una delle materie in assoluto al vertice di quella scala di valori che si possono attribuire ecco se si sono definiti in quella sede non vedo perché no ci siamo dimenticati che noi abbiamo vissuto due anni in cui con un riferimento normativo in una sede di un decreto legge abbiamo vissuto due anni della disciplina che ha regolamentato la vita di tutti noi attraverso i dpcm o addirittura con le fac perché qualcuno doveva darci qualche indicazione io non vorrei essere l'ufficio semplificazioni una cosa è certa donorevole Prometano non sono il ministro delle difformità le difformità le verifico oggi come già esistenti farò di tutto per riuscire a superarle e la mia mancata citazione all'articolo 3 perché all'articolo 5 che si parla di unitarietà del paese all'articolo 3 giustamente l'uguaglianza però non ho citato neanche l'articolo 1 me ne scuso la prossima volta citerò anche l'articolo 1 però quelle diseguaglianze che lei teme io mi sembra di riviver lo stesso film che ho vissuto col federalismo fiscale perché anche col federalismo fiscale tutte le volte mi dicevano tu vuoi dividere il paese guardi io tutte le volte che sento tutte le volte non possiamo fare un dibattito a due chiedo scusa ma è così prego credo che sia stato rinviato in collegamento col PNRRR e per avere il collegamento con lo stesso sembrava una missione impossibile poi alla fine quando io sostenevo che determinati comuni anche del mezzogiorno avrebbero ricevuto più risorse che in passato si è completamente realizzato quindi il lavoro lungo sì abbiamo avuto la collaborazione di comuni e province che ci hanno consentito di realizzare costi fabbisogni standard sì proseguiamo su quella strada ma bisogna prima o poi partire per quello che è l'ambito regionale perché fino ad oggi su quel fronte tranne che per la sanità poco di più e per il diritto allo studio poco di più è stato fatto ma mi scusi adesso sto replicando io non è che stiamo parlando ci sono anche i suoi colleghi onorevole Provenzano però chiedo scusa le regole del gioco devono valere per tutti non è un dibattito a due allora prego concluda la replica ministro mi scusi allora condivido quello che ha rappresentato la senatrice Bergamini rispetto alle criticità del titolo quinto attuale però io quello e quello uso rispetto alla legge del Rio l'ho anticipato che è mia intenzione sia in termini di competenze che di meccanismi elettivi di rimetterci mano non è un'operazione assolutamente semplice perché purtroppo parecchie delle funzioni sono state già trasferite in capo alle regioni alcune delle regioni le hanno devolute a loro volta altri soggetti o comuni o province alcune se le sono tenuti e in carico hanno anche le risorse e il personale quindi un ritorno al passato sic e simpliciter non basta cancellare la legge del Rio bisogna rivedere completamente le funzioni degli enti di area vasta e i meccanismi elettivi montagne appennini so che susciterà perplessità però io ho una certa chiarezza io prima o poi su questo discorso delle zone montane parzialmente montane io lo voglio fare perché non sono un grosso matematico però se il 35% del territorio nazionale è zona montana e i comuni montani o parzialmente montani rappresentano con stime approssimative perché l'ultima classificazione risale a 20 anni fa sono più del 55% qualcosa nei numeri non non conta alcuni dei parametri che vanno bene al di là dell'altimetria inclinazione inclinazione del terreno fanno riferimento per esempio alle zone bombardate nell'ultima guerra mondiale che sicuramente avranno avuto necessità di essere supportate ma che credo che con la definizione di montagna parziale o totale non abbia assolutamente senso è evidente che se più del 50% dei comuni italiani ricevono dei fondi che avrebbero dovuto essere destinati alla montagna si accontentano tutti ma forse le zone montane non ricevono quello per cui era stata distanziata quelle risorse e ritengo assolutamente importante quel finanziamento triennale perché per la prima volta è possibile fare una politica strategica di più ampio respiro che la semplice distribuzione ai singoli comuni il senatore Urdi paritetiche stato città condivide scusi paritetiche delle regioni delle province delle regioni del statuto speciale assolutamente d'accordo credo che in passato qualche errore sia fatto i rappresentanti dello stato devono essere rappresentanti dello stato perché province e regioni autonome a loro volte possono eleggere i loro rappresentanti quindi se non è così non sarebbero più paritetiche presidenzialismo sono un sostenitore l'ho scritto l'ho votato anche nel 2012 era stato approvato al senato della repubblica se non si fosse conclusa la legislatura probabilmente un accenno di presidenzialismo l'avremmo già inserito fondamentale fondamentale pericolivo io non ho citato perché non ho oggi la legge in mano le prime persone credo che sarete voi a vederlo perché credo che come percorso si potrebbe partire anche dalla camera dei deputati e non dal senato della repubblica ma a quell'aspetto che le regioni del medogiorno mi hanno sollecitato fino all'inizio mi hanno stimolato a un confronto con il mio interlocutore principale che è il ministro Fitto come ministro della coesione del PNR del sud perché noi quell'aspetto l'abbiamo considerato e utilizzeremo proprio quei fondi per superare le sperequazioni che oggi esistono ma una volta tanto sia io che lui siamo convinti che vogliamo vedere le opere realizzate e non solo scritte sulla quarta perché diversamente si parla e si promette qualcosa a qualcuno sapendo che qualcosa non arriverà mai più la ringrazio ministro adesso diamo giustamente correttamente la parola a chi non ha ancora intervenuto cioè l'onorevole Stefani prima che a 5 minuti e l'onorevole Auriemma suoi subito dopo sì grazie presidente io replicherò a voi due replicherò il ministro sì grazie presidente grazie ministro grazie anzitutto per la disponibilità grazie per l'illustrazione delle linee programmatiche grazie anche per il lavoro fatto finora e per aver accettato questa sfida che è una sfida importantissima per il nostro paese una sfida che lei sta vincendo con la forza del dialogo con la forza del pragmatismo ma anche con la forza della verità prima sono stati citati dall'onorevole Provenzano alcuni articoli tra cui l'articolo 5 però l'onorevole Provenzano ha citato soltanto le prime 5 parole perché se avesse citato le altre parole direbbe che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali riconosce e promuove le autonomie locali attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo adegua i principi e metodi della legislazione a quelle che sono le esigenze dell'autonomia e allora la Costituzione italiana prevede questo processo e prevede che questo processo sia costituzionalmente garantito e quindi il percorso che ha citato il Ministro è un percorso chiaro un percorso lineare un percorso tutelato e voluto dalla Costituzione e in questo question time lei Ministro ha già risposto anticipatamente alle mie domande però credo sia opportuno per questa Commissione focalizzare l'attenzione su quelle che possono essere le forme di partecipazione di anche questa Commissione del Parlamento o di eventuali Commissioni amerali al lavoro sul regione differente e magari abbozzare un ipotetico cronoprogramma di quello che potrebbe essere poi il lavoro del Parlamento finisco e concludo il mio intervento con l'auspicio di buon lavoro perché questa può essere una riforma epocale ed è una riforma che interessa il diritto costituzionale nella maniera più profonda del termine e le nostre autonomie e i nostri territori prevista dalla Costituzione quindi la ringrazio e le auguro buon lavoro grazie lei ha ridato quel tempo che non ha utilizzato che era stato utilizzato dal gruppo il PD quindi è una perequazione posteriore quindi l'onorevole Provenzano ha avuto questo tipo di bilancio ecco adesso do la parola se mi consente ovviamente invece all'onorevole Euliema per il gruppo del Movimento 5 Stelle Grazie Presidente grazie Ministro in realtà non c'è dubbio che l'autonomia differenziata è all'interno della nostra carta costituzionale ma all'interno di un sistema di un'architettura che prevede i 13 articoli in maniera rafforzata con un valore rafforzato e quindi le preoccupazioni che l'articolo 3 e la coaglianza soprattutto di fatto non siano garantite è evidente è ancora più evidente dal famigerato articolo 143 che secondo me la cosiddetta cabina di regia è una mi permetta Ministro un specchietto per la lodule perché lei sa benissimo che in 12 mesi non può realizzare questa cabina di regia nonostante tutti i profili relativi ai rapporti con il Parlamento e con la Commissione in realtà non realizzerà quello che in 20 anni non si è realizzato cioè l'individuazione dei lei quindi è evidente che l'obiettivo principale di questo secondo comma è quello di combissareare l'individuazione eletto quindi l'individuazione eletto non arriverà neanche attraverso la cabina di regia che già lì è una cosa gravissima anche perché il Parlamento non solo è completamente tagliato fuori da questo approfondimento ma anche perché non ci sono per esempio non è inclusa l'Associazione Nazionale dei Comuni Isole Minori che tratta ben 35 comuni per l'Oppure del Sud quindi già anche questo è una mancanza rappresentativa quindi il vero obiettivo di questo 143 è il commissario straordinario che verrà nominato con poteri di fatto non ancora chiari quindi il fatto che i lei vengano individuati in maniera unilaterale dal Ministro da lei il Ministro e il fatto stesso che si va a rispolverare un concetto che lei stesso avrebbe superato quello della spesa storica in realtà c'è un motivo ben preciso perché l'individuazione dell'EPE se non è arrivata in 20 anni c'è un motivo c'è un motivo perché probabilmente un'individuazione dell'EPE reale concreta determinerebbe una ridistribuzione a favore delle regioni del Sud di molte risorse quindi in realtà proprio perché ci sono zone del Sud che sono completamente sfornite anche se bisognerebbe parlare più di che essenzialità di uniformità dei servizi ma nonostante ciò un'individuazione precisa dell'EPE determinerebbe una ridistribuzione delle risorse maggiormente al Sud da questo la volontà di inserire il criterio della spesa storica che invece avvantaggia evidentemente le regioni che vanno in una prospettiva di più maggiore velocità è evidente quindi che la la volontà chiara non è tanto quella di individuare eletto individuarli ma soprattutto di individuarli in maniera unilaterale quindi tenendo esclusi tutti io credo anche la stessa cabina di regia perché mi potrà rispondere se in 12 mesi la cabina di regia può fare quello che non è riuscito a fare in 20 anni tra l'altro con nessuna possibilità di avere risorse a copertura quindi sembra veramente un comma irrealizzabile se non nella parte in cui si va a individuare immediatamente dopo 12 mesi la nomina del commissario è evidente che la costituzione è un programma in parte ancora da realizzare quindi il problema dell'autonomia differenziata sicuramente non aiuta in questo senso e ancorare tra l'altro l'individuazione e la distribuzione delle risorse con il PN dell'EP con il PNRR è estremamente pericoloso perché una malindividuazione dell'EP determinerebbe a cascata anche una ripercussione sulla distribuzione delle risorse del piano PNRR quindi anche questo per noi ci preoccupa quindi la domanda è un po' anche provocatoria mi permetta il ministro come può pensare in 12 mesi di realizzare quello che in 20 anni non si è riuscito a realizzare e quindi sembrerebbe che la strada automatica di questo 143 è la nomina di questo commissario con poteri straordinari e quindi bypassando ancora di più tutti i procedimenti anche previsti dallo stesso articolo 143 grazie grazie si è attenuta esattamente ai tempi la ringrazio c'è l'onorevole Provenzano che credo prima di una replica del ministro a sto punto se l'onorevole Provenzano desidera fare un appunto lo faccia in modo tale che così il ministro replica ai due precedenti interventi anche al suo in replica prego no no io mi permetto solo visto che ci invita all'area collaborazione del ministro proprio a dare un'informazione perché noi la spesa storica non è che è un mistero noi ne conosciamo una gran parte e la conosciamo grazie alle istituzioni e allo stesso governo perché i conti pubblici territoriali ragioneria dello Stato ci offrono già la spesa territorializzata regionalizzata poi va incrociata con i livelli di servizi con gli obiettivi di servizi che non a caso diciamo ministro questo le do una seconda informazione sono stati previsti nella determinazione dei LEP con riferimento agli asili nido nella scorsa legge di bilancio che lei non ha votato no forse sì perché era in maggioranza a differenza di quello che ha detto lei c'è stata la determinazione dei LEP con fabbisogni standard e obiettivi di servizio intermedi ma soprattutto ministro con le risorse per determinare quei livelli essenziali delle prestazioni perché se vuoi colmare di vari cittadinanza quei fichi secchi non ce la fai perfetto allora abbiamo concluso qui con gli interventi per la replica finale a questo punto do la parola al ministro Calderoli e ringrazio nuovamente per la sua presenza qui oggi visto il periodo dell'anno che solitamente predispone ai fichi secchi le dicono che non sono mai piaciuti non li ho mai mangiati quindi non li faccio né a nozze né a Natale né in altra sede fichi secchi a Natale ci stanno bene sì sì allora partiamo dal senatore dall'onorevole Stefani allora la partecipazione al ruolo del Parlamento il 116 terzo comma non rinvia a una legge di attuazione dice che le intese devono essere sottoposte al voto del Parlamento con la previsione di una maggioranza qualificata della maggioranza assoluta se io dovessi prendere la Costituzione per come la leggo io le dico le preintese che qualcuno aveva sottoscritto e non era il sottoscritto ma era il senatore Bressa non avevo le Bressa allora poi il senatore la attuale senatrice Gelmini quelle preintese avrebbero teoricamente potuto andare direttamente in Parlamento se io mi prendo la briga e anche l'onere di portare in un percorso parlamentare che richiederà lei mi diceva un cronoprogramma e ragionevolmente io penso che l'esame di una legge di attuazione richiederà un anno di esame parlamentare e già un immendiato coinvolgimento di quello che è il Parlamento io poi ho detto il Parlamento verrà coinvolto nella fase della preintesa il soggetto che per quello che mi riguarda ma poi ci sarà l'esame parlamentare il soggetto l'interlocutore è la commissione questioni regionali dopodiché quando arriverà l'intesa in Parlamento non decido né io né la legge ci saranno i regolamenti parlamentari che interpretati dai rispettivi presidenti faranno seguire un determinato percorso a quella intesa quindi io non voglio né togliere né mettere saranno i regolamenti parlamentari e l'autonomia regolamentare delle due rami del Parlamento a poterlo definire crono programma che sposto anche rispetto alle domande o alle affermazioni dell'onorevole Auriemma è possibile o impossibile definire entro 12 mesi i LEP io fino ad oggi tra i quali della sanità non avevo visto alcun che come ho iniziato a dire guardate che può arrivare anche un commissario a puntare il LEP ambientale il diritto allo studio ci saranno tutti entro 12 mesi io non lo so io il commissario lo metto proprio in termine di stimolo di sistema di chiusura guardate che diversamente poi arriva qualcuno che lo fa arriviamo a metà del percorso sarò il primo a presentare una proroga di quel termine temporale perché si prosegua nel lavoro della cabina di regia ma voglio vedere se c'è la volontà di partire e di fare qualcosa di serio perché se tutte le volte prima di fare io queste cose qui le ho viste e l'onestà intellettuale di alcuni rappresentanti della sinistra che hanno vissuto con me il periodo del federalismo fiscale io allora dicevo per definire i costi fabbisogni standard arrivano dopo i lab e non prima oggi mi danno ragione che diversamente non avrebbero mai definiti i costi fabbisogni standard e quello dei lab che per esempio venivano indicati dal senatore provenzano rispetto agli asili nido io non ho citato non perché non esistano ma perché gli asili nido il sociale non è oggetto di possibile trasferimento e già dov'è quindi pregevole il lavoro che è stato fatto rispetto ai lab dopodiché hanno sono state anche stanziate le risorse per poter realizzare quell' lab e qui spuntano i fichi secchi perché non è immesso la copertura ai lab allora o qualcuno conosce veramente invidio l'onorevole Provenzano della sua conoscenza rispetto alla spesa storica regionalizzata quando uno si va a leggere la relazione della ragioneria generale dello Stato rispetto a quella regionalizzazione si rende conto che la ricostruzione di quello che è la spesa di una materia o delle funzioni che sono contenute in quella materia è assolutamente impossibile e già nella relazione la ragioneria dice di quei 700 rotti miliardi più o meno la metà non è regionalizzabile l'altra parte è regionalizzabile io credo che il lavoro debba essere fatto un pochino in maniera più definita rispetto a quella relazione e la ragioneria stessa mi dice l'ambiziosità di questa voglia di poter calcolare il costo per singola funzione sarà una mia curiosità io fino ad oggi non le ho mai ancora trovate allora quando uno mi dice ma dove sono le coperture dell'app io ho messo o metterò nella legge che sarà la legge di stabilità che deve verificare la copertura dell'app ma prima di sapere cosa mi costano io voglio sapere cosa sono di quali servizi sto parlando sulla base della definizione di quello che sono quei servizi parto dalla spesa storica faccio costa standard lo calo nella realtà territoriale e ne ricavo il fabbisogno standard la somma di tutti i fabbisogni storici mi darà la dimensione delle necessità delle risorse che devo metterci ma io oggi non so se stiamo spendendo troppo e male o se spendiamo troppo poco c'è la necessità come nel caso degli asili nido di andare a coprirli quella sarà la sede propria delle leggi di stabilità perché sono quelle che stabiliscono le spese dello Stato rispetto alla senatrice Uriema mi perdonate ma per me per un paio d'anni andrà avanti così perché anche per me sarà sempre il senatore Nazzario Pagano e andrò di là a dire il contrario eravamo nella stessa prima commissione componente autodevole della prima commissione all'epoca vicepresidente del senato prego ministro allora concludendo una cosa è certa quando io ho pensato al commissario non penso a me proprio se io dovessi indicare me stesso che sono membro di quella cabina di regia e dovesse arrivare un insuccesso ci metterei di tutto meno che chi è arrivato a un insuccesso quindi non si preoccupi e spero che sia solo una una minaccia quella del commissariamento però io voglio che si inizi a fare qualcosa le piccole isole ma le piccole isole sono rappresentate da lanci anzi i comuni italiani sono presenti con lo stesso peso di regioni e province all'interno della cabina di regia e poi chiudo ma non non c'entra non vuole essere un riferimento a lei personale ricordo che il primo governo Conte è partito con un contratto di governo in cui l'autonomia differenziata era presente e come tra i primi punti delle riforme istituzionali bene abbiamo concluso io ringrazio davvero della cordialità e della completezza dei suoi argomenti il ministro Calderoli che ci lascerà la sua relazione quindi io provvederò ce la farà per venire quindi io ve la farò avere ringrazio ancora sì ovviamente lo ringrazio davvero e dichiaro conclusa l'audizione salutando gli ascoltatori di Radio Radicale che pare ci abbiano ascoltato in questa spera che ci fosse qualcuno sì no ci sono perché mi hanno scritto quindi è evidente un saluto a tutti di Radio Radicale di Radio Radicale di Radio Radicale